Simulano una rapina ma vengono scoperti dai carabinieri e denunciati alla procura della Repubblica del Tribunale di Gela. Protagonista sono due catanesi. Secondo quanto ricostruito dalle investigazioni, i due si sono legati presso la stazione dei carabinieri di Niscemi per denunciare di essere state vittime di una rapina perpetrata quando gli stessi, in qualità di dipendenti del mobilificio Mondo Convenienza, che si trova all'interno del centro commerciale Le Porte di Catania, si trovavano all'interno del mezzo utilizzato per portare la mobilia sulla strada provinciale 12 in direzione Niscemi-Gela. Ai militari hanno raccontato che due individui a bordo di una moto, avvolto coperto da casco integrale, di cui uno armato di pistola, si sono avvicinati al furgone da loro guidato. In quel momento uno dei due malfattori ha estratto l'arma minacciandoli affinché gli stessi consegnassero i soldi in loro possesso, riuscendo così a sottrarre ben 2.500 euro provento della giornata lavorativa. Ma la versione raccontata dai due catanesi non ha affatto convinto i carabinieri. Ulteriori accertamenti hanno dimostrato la falsità delle digrazioni dei denuncianti. Nel porto oggetti del veicolo i militari hanno rinvenuto, ponendola sotto sequestro, la somma in denaro che poco prima i due dipendenti del mobilificio avevano asserito fosse stata sottratta da ignoti malfattori. I carabinieri di Gela hanno denunciato un polacco di 48 anni, operaio, per atti osceni in luogo pubblico. Su segnalazione di alcuni bagnanti che si trovavano sulla spiaggia di Montelungo, i militari si sono recati sul ritorale alla ricerca di un soggetto di sesso maschile intento a prendere il sole completamente nudo. I militari, dopo una breve ricerca, hanno notato un soggetto integralmente svestito intento a passeggiare lungo l'arenile. Richiamato da militari al decoro, l'uomo si è rivestito immediatamente ed è stato accompagnato in caserma. L'intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato così che numerose persone, tra cui anche i minorenni, potessero imbattersi in una situazione disdicevole e indecorosa. Ci poniamo una domanda. Ma il cittadino polacco ha scambiato Montelungo per Contrada Bulala?